Siamo davvero alla partenza della quindicesima edizione della Marimonti da Recanati a Pieve Torina sono 112 gli iscritti 100 i partenti quindi una lista di partenti davvero di grande qualità e quantità per una corsa che si preannuncia davvero molto molto emozionante. In sella quindi 15 anni 16 anni con l'organizzazione della società Recanati Marinelli Cantarini. La distanza sale e scende per 85 chilometri interessando Sambucheto, Santa Merenza in Selva di Treia, Tolentino, Le Grazie, Sfercia, Polverina. Pieve Torina salute il passaggio e suona la campana. Il tratto conclusivo tocca Capriglia, Pieca-Savecchia, Vari e Appennino per chiudersi sulla linea d'arrivo tracciata nel cuore di uno dei comuni maggiormente devastati dal sisma del 2016 e le cui ferite sono ancora oggi purtroppo ben visibili. La carovana si è ritrovata nell'area adiacente lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, bandirina abbassata da Sergio Bartoli consigliere delegato allo sport, direzione di corsa affidata da Albino Stortoni ed Emanuele Serrani, giuria composta da Capo Zucca, Bartolacci e Bottoni. La storia della Mare Monti è storia di promozione e valorizzazione dell'entroterra maceratese. Albo d'oro di notevole caratura vedi Filippo Baroncini all'ora della Massese Mini Pan d'Argento nel 2016, prima di infilare la Sarnano Recanati, il trofeo città di Montelupone e quest'anno la tappa a cronometro del Giro d'Italia Under 23 ed il tricolore cronometro cadetto. Da ricordare anche il successo di Marco Garofoli. La Recanati Pievetorini inaugura anche il dittico leopardiano che si concluderà con la Sarnano Recanati della classica ultima domenica di settembre, sempre per allievi. 112 iscritti, come detto 100 partenti, rappresentato il meglio delle società giovanili dell'Italia centrale. Oltre alle migliori equips marchigiane segnaliamo la Forno Pioppi, la S Roma Coratti, il Pedale Teate Chieti, il Gubbio Ciclismo Mocaiana, l'Unione Ciclistica Foligno, la Marco Pantani, Ufficial Team, la combattiva logistica ambientale laziale. Temperatura ideale, con una leggera ventilazione, si corre nel ricordo di Luigi Gentilucci, illuminato amministratore della cittadina sede di arrivo e di Mario Marinelli, anima della società recanatese, instancabile promotore di mille manifestazioni, sempre vicino davvero ai suoi ragazzi. Ed eccoci alla partenza, al chilometro zero di questa quindicesima edizione della Maremonti, chilometro zero situato tra le frazioni di San Buccheto e Sant'Egito, siamo nel comune di Monte Cassiano. E subito dobbiamo dire che i partecipanti ci danno dentro davvero di brutto con una serie di tentativi. Il primo è del dorsale 106 Cristian Zezza della logistica ambientale, sarà una formazione grande protagonista di questa manifestazione. Vediamo che si è accodato subito vicino a lui Marco Ragnetti dell'Alma Juventus Fanon, ma è sempre la formazione laziale della logistica ambientale a fare l'andatura, quindi subito una media estremamente alta sin dalle prime battute. Si susseguono i tentativi, questo è il numero 94, si tratta di Matteo Tommaso Ciampoli del team Go Fast, subito dietro di lui a cercare di andarlo a riprendere Valero Piva della Marco Pantani. La formazione intitolata al Grande Pirata sarà una delle più combattive per tutto l'arco di questa competizione che come detto si snoda attraverso 85 km. Siamo in località Santa Merinselva di Treia con Giovanni Guccione, anche lui dell'Alma Juventus Fano, che prova ad evadere dal grosso del plotone. Stiamo entrando in questo momento a passo di Treia con Giovanni Spendolini del pedale chiaravallese che fa l'andatura sempre molto sostenuta. Questo d'altronde è un tratto pianeggiante nei pressi di Spendolini. Vediamo anche il 28, si tratta di Paolo Didonato del pedale Teate. Stiamo oltrepassando passo di Treia. Il gruppo è ritornato compatto, adesso si inizierà a salire seppur dolcemente con la strada che sale verso l'Abbazia di Rambona. Prima di scendere verso Tolentino c'è un binomio in testa composto da Jacopo Ficaccio della Marco Pantani Ufficial Team e dall'82 ancora Davide Eusepi dell'Alba Juventus Fano. Una salita molto dolce comunque in questo tratto che non sta creando grandi problemi. Una decina di secondi di vantaggio. Ecco il primo piano per Davide Eusepi, portacolori dell'Alba Juventus Fano. Siamo nella zona del rifornimento effettuato secondo tutte le normative piuttosto stringenti per la verità attualmente in vigore. Sempre Davide Eusepi a fare l'andatura con Ficaccio alle sue spalle. Ora si scende verso Tolentino. Sono in forma Adriano Spinozzi del team Capodarco che sta curando radioinformazioni circa una ventina ai secondi di vantaggio di questo binomio con cambi piuttosto regolari come vediamo tra i due fuggitivi, tra i due battistrada. Ad ora attraversiamo Tolentino. 20.000 abitanti, forse il centro più grande tra quelli colpiti dal terremoto del 2016 ed anche qui segni piuttosto tangibili del disastro di cinque anni fa, di ormai cinque anni fa. Gruppo che è ritornato con Patos. Qui siamo in zona Le Grazie, quindi all'uscita della cittadina di Tolentino. Vediamo inquadrato il dorsale numero 102, anche lui della logistica ambientale. Si tratta di Luca Attolini. Il tentativo che vediamo è di Vantoselli della Marco Pantani che cerca di uscire approfittando di questa zona ancora pianeggiante. Anzi siamo in una zona di leggero falso piano. Insieme a lui appunto il dorsale 102, Luca Attolini. C'è una fuga vera e propria con una trentina di secondi di vantaggio quindi per i due battistrada. Anche se come vediamo il portacolori della Marco Pantani chiede ripetutamente il cambio al proprio compagno di fuga che sembra per la verità collaborare in maniera piuttosto scarsa. Ci avviciniamo al bivio per Bolognola. Ecco qua i due fuggitivi. Ripeto una trentina di secondi di vantaggio per Ivan Toselli e per Luca Attolini. Anche questo tentativo però si esaurisce. Il gruppo sta viaggiando davvero a velocità, d'andatura sostenuta. Siamo nei pressi del bivio della Maddalena di Muccia. Comunque ovviamente di temerari ce ne sono parecchi. Questi è il 28 Paolo Di Donato, corridore abruzzese, teatino, pedale teate di Chieti quindi che ci prova prima di arrivare al passaggio a Pieve Torina ma anche per lui la fuga è stata di brevissima durata. Eccolo che viene ripreso dal gruppo che viene condotto da Giacomo Navarra dell'Associazione Sportiva Roma Coratti che ha alle sue spalle Matteo Tullio anche lui del pedale teate. Quindi gruppo di nuovo compatto con il passaggio in questo momento a Pieve Torina ed è facile prevedere insomma che questa quindicesima edizione della Maremonti si decida sull'erta che porta ad Appennino. Vediamo già il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci sul passaggio dei corridori che poi ovviamente sindaco che troveremo al traguardo. Si sale quindi verso Appennino un'erta tagliagambe che arriva dopo 70 chilometri che potrebbe essere determinante per l'esito di questa competizione ed infatti lo è perché la fuga decisiva è del dorsale 101 Federico Amati. Già quattro successi quest'anno corridore classe 2005 che ha appena compiuto quindi i 16 anni della team logistica ambientale sembra avere più gamba Amati rispetto ai tre inseguitori poi che sono a 25 secondi poi a 35 secondi c'è un drappello di altri cinque corridori. I due drappelli si riuniranno quindi otto all'inseguimento di Federico Amati nel massimo dello sforzo il corridore laziale che cerca di difendere il suo tesoretto di vantaggio ormai sta scollinando verso Appennino ed infatti qui siamo nella discesa che porta o meglio riporta il battistrada verso il traguardo di Pieve Torina. Federico Amati nel momento del suo massimo sforzo sembra reggere cinque chilometri alla conclusione con il vantaggio sempre di 25 secondi ed è un vantaggio che potrebbe essere difeso. Ripeto ci sono otto corridori all'inseguimento di Amati e sono nell'ordine Fraticelli, Fanelli, Tullio, Rocchi, Chinappi, Bellucci, Fiorini e Toselli che sono all'inseguimento di Federico Amati che comunque mantiene sempre una ventina di secondi di vantaggio. Posizione aerodinamica per cercare di sfruttare al meglio questa discesa appunto che porta da Appennino verso Pieve Torina lungo la strada provinciale che collega i due centri dell'entroterra maceratese. Ormai manca davvero pochissimo tre chilometri alla conclusione. Per Amati informa Adriano Spinozzi di Radioinformazioni del gruppo ciclistico Capodarco. I secondi di vantaggio sono 15 ma ormai è vicino lo striscione dell'ultimo chilometro ed è soprattutto vicino il traguardo finale di Pieve Torina per questa quindicesima edizione della Maremonti organizzata dalla Recanati Marinelli Cantarini. C'è questo rettilineo che porta proprio verso Pieve Torina. È fatta per Federico Amati che imbocca il vialone d'arrivo. Eccolo qua il corridore laziale che si aggiudica la quindicesima edizione della Maremonti in due ore e diciotto alla media di 36 e 957. Alle sue spalle Sebastiano Fanelli del pedale Chiaravallese ha fatto il vuoto a 10 secondi poi a 29 secondi il terzo posto Luca Fraticelli. Quindi ci sono due marchigiani sul podio di questa Maremonti. Poi a seguire Tullio, Rocchi, Chinappi, Bellucci, Fiorini, Toselli e Ficaccio. L'ordine d'arrivo dei primi 10. Ed ora passiamo alle interviste. Federico Amati, vincitore molto meritevole di questa competizione. Si è decisa negli ultimi chilometri. Decisiva la tua fuga? Beh sì, la salita è stata fondamentale per fare la selezione per poi arrivare solo all'arrivo. Senti, vittoria numero 5 è un momento magico della tua stagione per te? Beh sì, molto soddisfacente essere già alla quinta vittoria questa stagione. Conoscevi questa competizione? È stata come te la immaginavi? Non l'avevo mai partecipato a questa competizione ma sapevamo che era dura quindi siamo venuti appunto per far fatica. Tu sei di Nettuno, patria del baseball. Come mai il ciclismo? Il ciclismo perché mio zio che purtroppo ha avuto un incidente alcuni anni fa è grazie a lui che sono andato in bici, che mi ha trasmesso questa passione. Senti, adesso ci sono degli appuntamenti importanti a partire proprio dalle prossime settimane? Sì, la prossima settimana partirò per l'italiano, sarò al via e cercheremo di fare il possibile. Bella prestazione anche di tutta la tua squadra, oggi abbiamo sentito che la logistica ambientale spesso è stata protagonista. Sì, devo veramente ringraziarli perché oggi hanno lavorato benissimo, non ho dovuto dire nulla, hanno fatto tutto ciò che doveva essere fatto. Sebastiano Fanelli di Cassiano e di Montemarciano, pedale chiaravallese, soddisfatto per questo secondo posto? C'è un pizzico di rimpianto, Amati non era lontanissimo. Purtroppo sì, sono arrivato secondo, però non ho rimpianti, so che la gamba in questo momento c'è, risponde bene. Infatti subito prima dell'inizio della salita mi immaginavo già uno scatto appena presa la salita e così ho fatto infatti, ho portato via la fuga decisiva. Solo che a un chilometro dalla cima Federico Amati aveva purtroppo più di me e quindi mi ha lasciato lì. Sono stato ripreso dal gruppo dietro ma ho avuto ancora le energie per andare via gli ultimi cinque chilometri. Sì, eravate in otto, stavate lì quasi per riprenderlo, alla fine sono pochi secondi che vi separano. Sì, 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 erano veramente pochi secondi. Devo ringraziare il mio compagno Tommaso Fiorini che mi ha permesso di andare via coprendomi e lanciandomi in fuga. Ero veramente a un pizzico da prendere Federico ma non ho nessun rimpianto. Due vittorie per te quest'anno, una stagione che sta andando bene, oltre a molti piazzamenti. Sì, sì, molti piazzamenti nei primi cinque, due vittorie. Non posso lamentarmi, ho un'ottima squadra, un ottimo allenatore che lo ringrazio per la stagione fantastica che mi sta facendo fare. Anche per te ci sono appuntamenti importanti da qui a breve termine. Sì, la settimana prossima sono stato convocato con la rappresentativa Marche per il campionato italiano. Speriamo di poterlo onorare. Senti, che caratteristica ha il percorso del tricolore se lo hai un po' esaminato? Ho dato un'occhiata, mi piace, non è durissimo, però sono territori simili alle zone dove mi alleno. Molti sali scendi, quindi credo che potrò rispondere bene al circuito. Luca Fraticelli, Alma Juventus, fanno ancora una volta terzo, per la terza volta. Rimpianti, soddisfazione? Sì, un po' il rimpianto perché nonostante ho tanti punti non riesco comunque ad andare all'italiano. È stata comunque una bella corso, noi ce l'abbiamo messa tutto, però non è arrivato il risultato che volevamo. Senti, è mancato anche poco per riprendere Amati, eravati in otto dietro, se non sbaglio, ad inseguirlo. Sì, secondo me quelli del Pirata si dovevano prendere il carico di andare sotto Amati, anche se ormai rimaneva poco e secondo me le gambe erano quelle che erano dopo il percorso che abbiamo fatto, che è stato molto duro e dico anche che in gruppo c'è stata anche molta mancanza di acqua. La selezione è stata durissima in salita? La selezione è stata molto dura in salita anche perché subito all'attacco Fanelli e Amati hanno subito attaccato e noi siamo rimasti un po' tutti sorpresi perché subito non ce l'aspettavamo. Però col passare dalla salita poi siamo rientrati, sono riuscito ad attaccare in pianura e mi siamo portati dietro Fanelli. Non ci sarà l'italiano per te, però ci saranno molte altre corse, ne hai qualcuna nel birino? Certo, sì, sicuramente fare bene la Coppa d'Oro che è una gara internazionale e comunque cercare questa vittoria anche per me e soprattutto per la squadra perché ancora ci è mancata e niente, va bene così, dai. Magari anche la Sarnano Recanati? Sì, adesso non sapevo se in calendario, pensavo l'avessero tolta, però adesso che c'è anche quella è un'altra corsa che metto nel mirino a questo punto e poi soprattutto che corsi in linea così dura con la salita mi ci addicono come percorsi, quindi sì. Ormai è una piacevole abitudine, no Sindaco? Questa manifestazione si era interrotta per causa di forza maggiore l'anno scorso, ma tenete molto a questa Maremonti. Una manifestazione importantissima, quello che non era riuscito a fare il sisma lo ha fatto il Covid, cioè interrompere una tradizione straordinaria che è quella della Maremonti Recanati-Pievetorina. Per me è un doppio valore, un valore sportivo e un valore emotivo. È il settimo Memorial Luigi Gentilucci e in ricordo di chi nel turismo di questi territori credeva e soprattutto un appassionato di ciclismo, aveva corso da dilettanti e questo credo sia il modo migliore per ricordarlo nel nostro territorio. Ecco, il ciclismo perché? Perché il Memorial? Perché rappresenta il punto di confluenza tra resilienza e lo sforzo del ciclista che arriva al traguardo e lì si libera. Ecco, è il nostro obiettivo nel momento della ricostruzione, cioè arrivare al traguardo, di riavere le nostre abitazioni, di riavere la nostra dignità attraverso le nostre case. Senti, un turismo particolare, quello del ciclismo, tra l'altro c'è stato anche il passaggio della Gran Fondo dei Sibillini domenica scorsa, un turismo lento, un turismo che permette di scoprire o riscoprire adesso forse più che mai questi territori. Ci stiamo investendo molto sul percorso lento, sulle bike, su quella capacità attrattiva che solo il paesaggio che viviamo riesce a garantire. Noi abbiamo investito sui percorsi delle acque, Pievettorina è un punto di confluenza tra due fiumi con una miriade di sorgenti. Ecco, vogliamo far vivere questo territorio attraverso le opportunità che la natura ci ha gratuitamente concesso e le mettiamo in disponibilità ovviamente di una moltitudine di persone che hanno voglia di vivere all'aria aperta in maniera spontanea in questi territori. La confluenza di questo percorso delle acque si articolerà da qui a breve nella inaugurazione di una nuova piscina a Laghetto che è un fiore all'occhiello per tutto il territorio, quindi non solo essere a contatto con la natura ma riuscire ad immergersi qui al centro, nelle porte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sarà un'estate anche con molti altri appuntamenti per Pievettorina? Sarà un'estate ricca di eventi, ci accingiamo ad avere il primo festival teatrale anche comico che è un fiore all'occhiello per tutto il centro Italia. Interverranno diversi artisti, una valenza veramente notevole e poi ci saranno degli spettacoli ririci qui nella piazza dove dobbiamo ricostruire. Ci sarà una volontà di attenzione a questi luoghi che sono i più distrutti e che devono necessariamente tornare a vivere. Ecco anche attraverso queste manifestazioni, oggi apriamo la stagione estiva di Pievettorina, riusciamo a garantire quella vivibilità del nostro territorio e soprattutto quel buon umore alla nostra popolazione che ne ha veramente bisogno. Allora diamo subito questa notizia a Real Time con Lino Secchi, una maglia tricolore per le Marche e l'onora ciabocco, forse non è una grandissima sorpresa ma una grandissima soddisfazione per questa ragazza che ormai non è una promessa, no Lino, è una certezza? No, è una certezza, è per questo che è ancora più difficile, quando lei chiaramente fra le favorite lo era e quando è così è più difficile correre, quindi è arrivata da sola, ho saputo proprio qualche minuto fa, quindi una bella notizia che completa il piazzamento ieri di quarto posto di Giulio Pelizzari, sfortunato perché ha forato nel momento decisivo finale della gara, altrimenti nel podio ci sarebbe stato anche lui. Senti, come sta andando questa stagione della ripartenza, con qualche tentennamento ovviamente, con qualche rinuncia ma anche con qualche certezza come questa Maremora? Ci sono delle difficoltà, ci sono delle difficoltà perché diciamo tutto che abbiamo una diversa normalità, effettivamente c'è una diversa normalità, sono delle regole diverse, sono un po' più stringenti, più pesanti dal punto di vista preparativo per le società organizzatrici e anche di costi, chiaramente gli sponsor sono un po' meno, quindi ci sono queste difficoltà, però le ripartenze ci sono, qualche rinuncia come dicevi, c'è chi ci prova, come in questo caso, che non è stata chiaramente, tranne l'anno scorso per il Covid, stata riconfermata, questa è una bella classica, lo dice anche l'ordine d'arrivo, il vincitore è uno dei più forti d'Italia, Fanelli è stato lì a ruota a pochi secondi, quindi significa anche un movimento nostro dal punto di vista degli allievi che è abbastanza importante, un altro dell'Alma Juventus-Fano, idem, quindi un bel movimento e un apprezzamento a chi aiuta per queste manifestazioni sul ciclismo giovanili, perché da queste che dobbiamo partire per poter avere poi i grandi eventi. Ecco, allievi che tra l'altro domenica avranno il campionato italiano, qualche speranziella, no? Cioè, abbiamo visto oggi Fanelli appunto in splendida forma. Sì, sai, il campionato italiano dopo è proprio una prova particolare, perché certi ragazzi che sono forti nelle gare così, poi le gare a quel livello magari sentono le emozioni, invece ci sono altri che riescono, sono abituati. Abbiamo dei buoni ragazzi che possono figurare bene, il problema è che fra gli allievi ce ne sono una 15, in Cina e in Italia che sono di velo alto, fra questi c'è sicuramente anche qualche marchigiano, dopo voglio vedere la situazione com'è, però speriamo bene anche sugli esordienti qualcosa, siamo fiduciosi. Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale, ma anche, possiamo dire, l'esponente di questo territorio che Gianluca ha anche, se non soprattutto, bisogno di questo, no? Di iniziative che comunque ravvivano questo territorio nel segno della resilienza. Intanto grazie per la presentazione, perché sì, mi sento prima di tutto una parte di questa terra con delle forti radici in questa terra. Devo dire che oggi è una giornata però estremamente particolare, particolare e bella, sia per lo sport regionale, perché questo è un evento estremamente significativo e come tutti gli sport va a dare quelli che sono i valori, il percorso salutare, il percorso di vita ai nostri figli. Poi è una Maremonti, una Maremonti che sta ad indicare anche nello sport, così come nella quotidianità, quello che è la regione Marche. In pochi minuti, dalla montagna alla collina e quindi al mare, passa tutto un percorso di storia, di valori e di cultura. Infine, ma non da ultimo, una giornata che va a ricordare un uomo che ha speso la sua vita per questo territorio, per questi monti, un amministratore, Luigi Gentilucci, attento, che tutti noi ricordiamo con tutto il nostro cuore e che ha lasciato un'eredità importante, il figlio Alessandro Gentilucci, che non è solo il sindaco di questa splendida comunità, ma è il presidente dell'Unione Montana, qui di Camerino. Quindi devo dire che è un cocktail importante che ci lascia guardare al futuro in maniera orgogliosa, attenta, propositiva e anche fiduciosi per quello che sarà. Sì, speranzosi, anche se il panorama alle nostre spalle ci indica che c'è ancora parecchio da fare, ma forse c'è stato davvero un cambio di passo che ci consente di vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Io ho sempre detto da sindaco, quando ero sindaco, che ci sarebbero voluti degli anni. Degli anni ancora ci vogliono, il cambio di passo c'è stato, è significativo, ma non mi sento personalmente di illudere i cittadini di questi territori. Si merita ancora di avere qui uno sguardo attentissimo, che lascerà passare ancora qualche anno, ma noi siamo testardi da un punto di vista politico, amministrativo, ma siamo anche testardi, ritorno alla sua presentazione, come cittadino di questa terra, di questo territorio, e quindi siamo certi di restituire, di far restituire ai nostri figli dei territori addirittura migliori rispetto a quelli che avevamo prima del sisma e prima anche del Covid. Chiudiamo riepilogando l'ordine d'arrivo della quindicesima Maremonti, vinta da Federico Amati, team logistica ambientale, 85 chilometri in 2,18 euro, la media di 36,957, argento per Sebastiano Fanelli a 10 secondi, pedale Chiaravallese, terzo Luca Fratticelli a 29 secondi, Alma Juventus Fano. Quarto posto a un minuto Matteo Tullio, pedale Teate, che ha preceduto allo sprint Emanuele Rocchi e Daniele Chinappi, Marco Pantani, Vittorio Bellucci, Gubbio Ciclismo Mocajana, Tommaso Fiorini, pedale Chiaravallese, Ivan Toselli e Jacopo Ficaccio della Marco Pantani Official Team. In modo...